buona serata a tutti questo video ci tengo a farlo direttamente dal mio computer perché oltre a parlare ovviamente della puntata di questa settimana di WWE man event dove belle sfide come al solito Asuka ha superato Kaden Carter la Carter ha tentato nei primi minuti di mettere in difficoltà la samurai ma alla fine non c'è riuscita invece devo dire che Danny Burch ha fatto sudare le sette camicia di Umberto Carrillo che però è riuscito a vincere e poi l'altro grande motivo per cui sono qui in questo momento volevo salutare i grandi amici veri amici molto appassionati del settore del pro wrestling di spazio wrestling italia ciao a tutti i ragazzi di spazio wrestling ragazzi seguite il sito spazio wrestling.it i social spazio facebook instagram se non ricordo male c'è il canale eagle leono c'è l'altro canale spazio wrestling sono bravissimi io li seguo ogni giorno tutti i giorni tutte le settimane tutti me tutto l'anno ormai fanno parte della mia vita grande spazio wrestling cari amici di spazio wrestling un grande saluto anche dal mio caro amico ciccio frank vi saluto anche lui quindi non ve lo dimenticato dovete seguire spazio wrestling fa parte del comandamento dell'appassionato di pro wrestling seguire spazio wrestling capito? quindi riconcludiamo dicendo ancora asca batte calden karten con qualche piccola difficoltà invece un quarto cario su dalle sette camicie pur avendo l'amico su zanibirch di nuovo buona serata voi tutti complimenti a voi di spazio wrestling seguite spazio wrestling ciao ciao